Alla mostra del cinema di Venezia sbarca Johnny Depp per portare Black Mass e il pubblico è quello delle grandi occasioni, tutto esaurito per il divo Johnny, un affezionatissimo della mostra del cinema che arriva qui con un film di gangster, un classico gangster movie ambientato nella Boston tra gli anni 70 e gli 80, la storia vera dell'ultimo gangster, un intreccio tra famiglie mafiose, poliziotti, politici, ripetiamo con uno scorrimento molto classico che però piacerà agli appassionati. Una storia di bugie, di illusioni, di sogni è la storia di Marguerite del francese Giannoli che arriva in concorso oggi alla mossa del cinema di Venezia, la storia di una nobile donna è ispirata a una vicenda vera, il regista francese la trasporta nella Francia degli anni 20, in realtà la protagonista è un'americana negli anni 40, canta per passione, purtroppo però è terribilmente stonata, tutti intorno a lei le mentono per convenienza, non si sa, anche lei non si sa se è vittima di questa sua illusione o tutti inconsapevolmente o volontariamente mantengono questo segreto. Francofoni è invece il film del russo Sokurov, un grande film d'impatto che racconta dell'Europa, è un saggio molto colto che ha lasciato però fredda la critica.